Buongiorno a tutti e buon anno amici miei e amici dell'arma, io sono amico dell'arma e sono amico vostro. Volevo farvi un annuncio straordinario perché sabato 5 gennaio di quest'anno, perché quello vecchio se n'è andato, al teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno c'è una grande manifestazione, c'è un musical straordinario che si chiama Da Salvo. Ricordatevi, sabato 5 gennaio alle ore 21, Salvo d'Acquisto, lo sapete, è un eroe che nel 1943 ha dato la sua vita per salvare tantissime persone innocenti. È un musical, c'è tanta musica, c'è da pensare e ci sarà anche da sorridere, insomma vi voglio tutti lì. Io spero che abbia un grande successo ma sarà così. Da Salvo, mi raccomando, Ventidio Basso il nome del teatro ad Ascoli Piceno il 5 gennaio, sabato. Il vostro Enzino vi aspetta. Il vostro Enzino vi aspetta. Ringgo. 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 Ringgo.